È ovvio che un pesce non può sopravvivere fuori dall'acqua più di due minuti. Se assumiamo che abbiamo avuto una siccità, come affermano gli evoluzionisti, per qualche ragione i pesci si videro a dover strisciare sulla terra. Che succederebbe a questi pesci se questo processo durasse milioni di anni? La risposta è semplice. I pesci che abbandonassero l'acqua morirebbero in poco tempo, anche se questo processo durasse milioni di anni. E la risposta sarebbe la stessa. Tutti i pesci morirebbero, uno dopo l'altro, e nessuno direbbe, forse nel giro di qualche milione di anni qualche pesce svilupperebbe polmoni nel tentativo di sopravvivere? Questa affermazione sarebbe senza senso ed illogica. Senza dubbio questo è quello che affermano gli evoluzionisti. Le mutazioni non permettono ad un essere vivente di acquisire un nuovo organo o trapianto. Causano solo anormalità, come una gamba al posto di una spalla o di un orecchio al posto dell'addome. Tutti gli sforzi per generare una mutazione benefica sono falliti. E oggi andiamo a parlare della teoria dell'evoluzione. Secondo la visione del mondo materialista, atea, anichilista, promossa dalla NASA, dal sistema di educazione e dai media di comunicazione, l'universo apparì dal nulla senza alcun motivo, 14 miliardi di anni fa. Poi, in uno di questi pianeti chiamato Terra, apparì dal nulla e senza alcun motivo la prima forma di vita formatasi da materia inerte. Questa primordiale forma di vita unicellulare si evolse nel giro di milioni di anni fino a convertirsi in un essere umano consapevole. Tuttavia, vedremo che anche la teoria dell'evoluzione si basa su fantasie e supposizioni che non sono ancora state provate dal metodo scientifico. La scoperta degli anni 50 della struttura DNA portarono un duro colpo alla teoria dell'evoluzione perché si comprese l'estrema complessità che stava dietro a qualsiasi forma di vita. Prima di queste scoperte, la comunità scientifica ufficiale, che difendeva l'idea di Darwin, uscì con spiegazioni alternative col proposito di mantenere viva la teoria dell'evoluzione. Una di queste spiegazioni era la presunta esistenza di mutazioni aleatorie che produrrebbero l'evoluzione della specie. Nei decenni successivi, dalla scoperta della molecola del DNA, il neodarwinismo tentò di mostrare con alcuni esperimenti falliti che potevano esistere mutazioni benefiche nei geni degli esseri viventi. Sebbene era già stato comprovato che tutte le mutazioni nei geni degli esseri viventi sono dannose, il biologo Vekes Pranganaz scrisse La mutazione non porta alcuna informazione nuova al DNA. Come conseguenza delle mutazioni, le particolarità che formano le informazioni genetiche sono strappate dal loro posto se non distrutte o spostate in un altro luogo. Le mutazioni non permettono ad un essere vivente di acquisire un nuovo organo o trapianto. Causano solo anormalità, come una gamba al posto di una spalla o di un orecchio al posto dell'addome. Tutti gli sforzi per generare una mutazione benefica sono falliti. Per decenni gli evoluzionisti hanno fatto vari esperimenti per produrre mutazioni nelle mosche della frutta, visto che questi insetti producono una nuova generazione ogni 11 giorni e pertanto le mutazioni si vedrebbero rapidamente. Generazione dopo generazione di questa mosca della frutta hanno portato a delle mutazioni, ma non fu osservata alcuna mutazione benefica. Il genetista evolutivo Gordon Taylor ha scritto è un fatto sorprendente che nessuno ha mai menzionato che tutti i genetisti di tutto il mondo stanno allevando mosche della frutta da più di 60 anni nei laboratori e non hanno mai visto una nuova specie, nemmeno un nuovo enzima. Se questo fosse il caso, allora innumerevoli specie intermedie avrebbero vissuto durante l'immenso periodo di tempo che si suppone fosse necessario per queste trasformazioni. Per esempio sarebbero esistite specie di mezzi pesci, mezzi rettili, che avrebbero acquisito caratteristiche dei rettili oltre alle caratteristiche dei pesci che già possedevano. Dovrebbero essere esistite specie di mezzi rettili, mezzi uccelli, che avrebbero acquisito caratteristiche avicole oltre alle caratteristiche dei rettili che già possedevano. Gli evoluzionisti chiamano queste creature immaginarie specie intermedie. Se veramente sono esistiti questi animali, dovrebbero esserci stati miliardi o milioni di essi e la cosa importante è che i resti di questi animali sarebbero presenti nei reperti fossili. E lo stesso Darwin era cosciente dell'assenza di queste specie intermedie e la sua speranza era che si potessero trovare in futuro. Il famoso paleontologo inglese Derek Hager ha detto «Se si esaminano a fondo i reperti fossili non si trova alcuna evidenza dell'evoluzione naturale, solo alla rapida esplosione di una nuova specie a scapito di un'altra». Il paleontologo evoluzionista Mark Tanerky commentò quanto segue «Uno dei grandi problemi con la teoria dell'evoluzione sono i resti fossili». Questi rettili non hanno mai mostrato segnali delle ipotetiche specie intermedie di Darwin. Al loro posto le specie appaiono e scompaiono all'improvviso e questa normalità ha alimentato l'argomento creazionista dove ogni specie è stata creata da Dio. Harun Yahya ha scritto Gli evoluzionisti credono che gli invertebrati marini si sono evoluti milioni di anni prima di convertirsi in pesci. Senza dubbio non esiste alcuna evidenza né reperto fossile che dimostri l'evoluzione tra questi invertebrati e di pesci. Gli invertebrati di pesci hanno enormi differenze strutturali. Gli invertebrati hanno tessuti duri all'esterno dei loro corpi mentre i pesci, che sono vertebrati, lo tengono all'interno dei loro corpi. Una evoluzione così enorme dovrebbe aver lasciato miliardi di passaggi prima di completarsi e si dovrebbero avere miliardi di specie intermedie che mostrano questi passaggi. Gli evoluzionisti hanno cercato nei resti fossili durante gli ultimi 150 anni per vedere se trovavano queste specie intermedie. Hanno trovato milioni di fossili di pesci, di invertebrati, ma separatamente, però non hanno mai trovato alcun fossile di qualche specie intermedia. Il contesto che vede la teoria dell'evoluzione va molto oltre affermando che i pesci si siano evoluti dagli invertebrati trasformandosi in anfibi. Però anche qui non c'è un solo fossile per verificare l'esistenza in qualche momento del passato di qualche creatura mezzo pesce o mezzo anfibio. Arun Yai ha scritto È ovvio che un pesce non può sopravvivere fuori dall'acqua più di due minuti. Se assumiamo che abbiamo avuto una siccità, come affermano gli evoluzionisti, per qualche ragione i pesci si videro a dover strisciare sulla terra. Che succederebbe a questi pesci se questo processo durasse milioni di anni? La risposta è semplice. I pesci che abbandonassero l'acqua morirebbero in poco tempo, anche se questo processo durasse milioni di anni. E la risposta sarebbe la stessa. Tutti i pesci morirebbero, uno dopo l'altro. E nessuno direbbe Forse nel giro di qualche milione di anni qualche pesce svilupperebbe polmoni nel tentativo di sopravvivere? Questa affermazione sarebbe senza senso ed illogica. Senza dubbio questo è quello che affermano gli evoluzionisti. L'evoluzione afferma che la vita ebbe origine e si sviluppò nel mare, poi si trasferì sulla terra attraverso gli anfibi. Questa teoria afferma inoltre che gli anfibi si sono evoluti in rettidi, creature che vivono solo sulla terra. Questo scenario ancora una volta è impossibile, proprio per la grande differenza strutturale fra le due classi di animali. Ad esempio, l'uovo dell'anfibio è stato creato per svilupparsi nell'acqua, mentre le uova amniotiche sono state create per svilupparsi sulla terra. Non esiste alcuna evidenza nei reparti fossili di nessuna esistenza di specie intermedie che metta in relazione gli anfibi con i rettidi. Il paleontologo Robert Carroll ha ammesso quanto segue. I primi rettili erano molto differenti dagli anfibi e gli anfibi dei loro antenati comuni non si riuscì a trovarli. L'immaginazione degli evoluzionisti non si ferma qui, perché affermano che in seguito i rettili svilupparono le ali e si evolsero. I uccelli, le ali, che sono eccezionali caratteristiche degli uccelli, presentano un grande problema per gli evoluzionisti. L'evoluzionista turco Engin Korur confermò quanto segue. La caratteristica comune degli occhi e delle ali è che possono funzionare solo se sono completamente sviluppati. In altre parole, un occhio sviluppato per metà non riesce a vedere. Un uccello con un'ana sviluppata a metà non può volare. Come si siano formati questi organi è un mistero della natura che bisogna spiegare. Arun Yahya ha scritto Non esiste alcun metodo in grado di spiegare come le braccia frontali di un rettile abbiano potuto trasformarsi perfettamente funzionali come risultato di una distorsione genetica o di una mutazione. Inoltre, le ali non sono sufficienti affinché un organismo terrestre possa volare. Esistono altri meccanismi strutturali che permettono agli uccelli di volare. Ad esempio, le uova degli uccelli sono più leggeri delle uova degli animali terrestri. I loro polmoni funzionano in maniera molto differente. Hanno un sistema muscolare scheletrico molto diverso di un sistema di circolazione ben specializzato. Queste caratteristiche sono necessarie come le ali per poter volare e dovevano esistere tutte allo stesso momento. Non potevano apparire gradualmente con forme cumulative. Per concludere questa teoria evolutiva, si sostiene che i rettili in seguito si sono evoluti in mammiferi. Senza dubbio esiste una notevole differenza tra queste due classi. I mammiferi sono animali di sangue caldo, in grado di generare il proprio calore, di mantenerlo ad un livello stabile. Danno alla luce le loro creature e le allattano. Hanno il corpo coperto di peli o di pelliccia. I rettili, diversamente, sono di sangue freddo. Depongono le uova, non allattano le loro creature e sono coperti di squame. Lo scrittore di scienza evolutiva Royas Lewin scrive La transizione dal primo mammifero che probabilmente accadde in uno o più lignaggi è ancora un mistero. Inoltre, quando improvvisamente sono apparsi i mammiferi, fra loro erano molto differenti. Animali così differenti come pippistrelli, cavalli, topi e balene, sono tutti mammiferi e tutti sono apparsi nello stesso periodo geologico. Stabilire una relazione evolutiva fra loro è impossibile, anche facendo uso di tutta la nostra immaginazione. Haru Yaya scrisse L'idea dell'evoluzione umana e dell'uomo scimmia è un'altra invenzione da parte degli evoluzionisti. I reperti fossili indicano che in tutta la storia gli uomini sono stati uomini e le scimmie sono state scimmie. Non si è mai trovato una specie intermedia, né un collegamento perduto.